E quello che succede nel fare tutto questo è che poi magari, come abbiamo visto dagli esempi, c'è chi vi bulla, chi ci bulla, chi ci fa soffrire, ci fa sentire a disagio e quando questo accade bisogna avere un referente, bisogna sapere da chi andare. Io vi dico che sicuramente i miei contatti sono lì, sono pubblici, potete usarli nei vari social, c'è la polizia postale che è straordinaria, io collaboro con loro, sono bravissimi, sanno occuparsi di ragazzi, sanno come si fa, appena sentono un ragazzo sanno cosa fare, se avete paura che un genitore venga a sapere di quello che sta succedendo, loro sapranno gestire la cosa nel modo migliore. Quindi fatelo, se vi fidate di me, mandatemi segnalazioni, non mandatemi foto, non mandatemi nulla del genere, mandatemi solamente segnalazioni che poi ci penso io eventualmente a girare, se non vi sentite di farlo direttamente.